Allora, è la prima volta per Gamshi ad Enada Primavera, ecco innanzitutto qual è la prima impressione e quali sono le novità che presentate? Beh, Gamshi sì, è la prima volta che si presenta ad Enada, è una sensazione molto forte per me perché finalmente si realizzano dei sogni e vedere così tanta gente alla nostra presentazione di una nuova slot è stata molto piacevole per me. Oggi abbiamo presentato appunto Tubularium che è una slot innovativa e totalmente differente da tutte le altre slot. All'interno possiamo trovare una giocabilità e una possibilità di vincita totalmente diversa. L'utente si ritroverà all'interno di un laboratorio dove ci sarà uno scienziato che farà degli esperimenti e ovviamente potrà vincere con un fluido che farà un percorso per arrivare ai punti premi. Ovviamente all'interno abbiamo anche un free spin dove i fluidi cambieranno colore e le vincite saranno molto più alte. Quindi diciamo che l'interattività e il divertimento sono i punti principali secondo lei anche per innovare il prodotto slot online? Sì abbiamo pensato appunto a qualcosa di diverso perché vedendo le classiche slot e parlando anche con le persone stesse che giocano alle slot abbiamo pensato di creare un qualcosa che ancora non c'era e appunto con Tubularium siamo riusciti fino ad oggi a creare un qualcosa di innovativo e puntiamo comunque a realizzare altri prodotti come ad esempio Tuncoops che è un'altra slot 2D e... Diciamo di carne al fuoco ce n'è parecchio. Sì esatto esatto infatti saremo anche alla fiera al Sigma di Malta per annunciare nuove slot che sono già in fase di lavorazione. Ecco il bando online è un'opportunità secondo lei per entrare anche nel mercato italiano e che cosa può portare? Assolutamente sì partecipare anche al bando italiano della licenza è un qualcosa di importante ad oggi perché comunque essere un provider avere una licenza soprattutto ad oggi nel mercato ti fa valere tantissimo. Grazie. Grazie mille.